buonasera a tutti benvenuti un saluto a tutti i presenti un saluto a chi è collegato si collegherà su facebook ascolterà la nostra diretta io sono gianfranco sorbara faccio questo primo incontro con tutta la cittadinanza ardorese qua da bombile col progetto ardore domani che si candida per le future elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di ardore dell'8 e 9 giugno innanzitutto un inciso abbiamo cambiato la location a causa di un incendio che c'è che stava costeggiando la zona delle tre campane e quindi siamo di fronte alla chiesa forse un segno anche del destino volevamo per rispetto nei confronti della delle festività mariane andare in un posto un po più lontano però il destino ci ha portato qua poi volevo anche fare un piccolo passaggio che ci dispiace per il lutto che ha colpito in queste ore alcune famiglie di bombile e di potito purtroppo la macchina organizzativa aveva già dato il via a questa iniziativa in qualsiasi caso porgiamo a nome di tutto il gruppo ardore domani le condoglianze ai familiari come dicevo iniziamo questo tour da da bombile in questa splendida cornice con solo con un po di rammarico perché io avrei voluto come location iniziare davanti al santuario davanti al nostro santuario che già solo solo due anni fa con iniziative roboanti e annunciazioni si parlava di lavori che avrebbero portato probabilmente il ritorno in quei luoghi questo purtroppo non è successo io ma più di me chi ha qualche anno in più i nostri pari le nostre madri si ricordano l'afflusso turistico e quello che succedeva nei primi giorni di maggio quando c'erano i festeggiamenti per la madonna della grotta anch'io da piccolo circa 40 anni fa ero chirichetto con padre l'irineo e e tremavo oggi tremo d'emozione perché ovviamente è una grande emozione parlare ai nostri cittadini parlare e proporre un progetto che riguarderà l'amministrazione dei prossimi cinque anni a quell'epoca però tremavo perché da piccolino vedevo vedevo tanta di quella gente ogni giorno tornavo dei miei genitori dicevo ma c'è tanta gente ma come come fa a esserci in quel piccolo borgo tutta questa gente io mi auguro che torneremo a quei pasti e nei discorsi che faremo oggi ma che approfondiremo nel proseguo di questo avvio di campagna ancora non siamo in campagna elettorale questo non è un comizio un incontro con i cittadini però questo è uno degli obiettivi che ci siamo dati e a cui ci terremo cioè fare un passo indietro rispetto a come si faceva la politica cioè tornare fra i cittadini tornare a parlare con voi tornare a metterci la faccia e un salto in avanti anche perché attraverso i social riusciremo ad entrare mi auguro nelle case di tutti perché è fondamentale secondo noi in questa campagna elettorale che tutti sentano cosa abbiamo da dire noi abbiamo tantissime cose da dire perché il nostro entusiasmo il cuore che ci stiamo mettendo per questo progetto politico che ci porta a esternare tantissime idee speriamo di avere il tempo in questi 50 giorni di dirvele tutte quindi dicevo questo questo luogo per noi è importante e sarà al centro della nostra campagna elettorale ma non è una frase fatta sarà al centro e perché in questa campagna elettorale vi assicuro come ho detto in occasione della presentazione della nostra sede politica tutto quello che diremo dovete tenerlo bene a mente perché rappresenterà un solco e una differenziazione importante tra noi e tra altri che si vorranno proporre o proporranno una ricetta per ardore è bene rimarcare che per noi e al centro del territorio sono i borghi saranno i borghi e il nostro patrimonio artistico è bene rimarcarlo perché in questi anni sapete tutti benissimo che non è stato così sapete tutti benissimo che abbiamo avuto cittadini di serie a e cittadini di serie b e sapete tutti benissimo secondo me che il rilancio dei borghi è il rilancio dell'intero comune di ardore noi abbiamo e non mi stancherò di dirlo in questa campagna elettorale lo ripeterò sempre perché è un dato che mi hanno riconosciuto anche politici a livello regionale noi abbiamo una particolarità d'ardore che non esiste in altri comuni noi abbiamo un santuario che ha una storia che affonda le radici in centinaia di anni abbiamo un castello feudale anch'esso di epoca che ha circa 600 anni di vita abbiamo un percorso ambientale escursionistica a varraro tutte queste tre cose insieme non ce l'ha nessun comune del territorio non possiamo più perdere il treno del turismo calabrese il turismo calabrese ha avuto come avete visto in questi anni attraverso una serie di azioni anche della politica calabrese ordinaria una serie di pubblicizzazioni in tutta europa attraverso l'operazione che sta facendo ryanair investendo sull'aeroporto di reggio che porterà migliaia di turisti specialmente sul litorale ionico reggine catanzarese se noi perdiamo questo treno questa volta difficilmente ne passerà un altro quindi noi dobbiamo creare le condizioni e vi assicuro che noi abbiamo le capacità le competenze e il cuore per farlo per riportare ardore come merita e con patrimonio che ha al centro di questa operazione turistica come lo faremo noi da un breve diciamo la breve ricognizione però attraverso i consigli dei cittadini consigli della nostra squadra oggi siamo a casa di caterina ma non solo caterina nino andrea alessandro salvino roberto ci sono tanti dico aspiranti candidati perché le liste come sapete per legge si presentano l'undici maggio oggi siamo un gruppo che sta discutendo perché sta andando a costruire un progetto per ardore con un programma e una lista e come dissi sin dall'inizio nel primo comunicato stampa tutte queste cose saranno condivise con voi non più decisioni dentro le le stanze della politica che venivano poi portate ai cittadini questi sono i candidati questo questo è il programma no noi lo faremo insieme vi dicevo da un primo monitoraggio sul territorio almeno bombilla almeno 15 abitazioni che non sono più in uso sono abbandonate sono chiuse e tra ardore centro fra san nicola e scendendo via via su tutto il territorio siamo quasi a 80 abitazioni che potrebbero diventare un grande e potranno diventare sicuramente con le competenze che metteremo sul tavolo con le amicizie che metteremo sul tavolo nel mondo dell'imprenditoria della politica un grande progetto di albergo diffuso per poter dare la possibilità ai turisti anche di poter alloggiare a ardore perché se i turisti alloggiano a roccella difficilmente verranno in vacanza da noi se i turisti alloggiano a soverato o reggio calabria difficilmente verranno a ardore quindi dobbiamo anche creare queste condizioni per rafforzare il nostro territorio come lo faremo? Lo faremo credendo nel nostro territorio perché noi il territorio non lo vediamo in base alle sezioni dove se votano pochi facciamo pochi se votano tanto facciamo tanto noi non ci sono per noi cittadini di serie B per noi uno vale mille per noi un cittadino di Bombile merita il rispetto un cittadino di Potito merita il rispetto di qualsiasi cittadino di qualsiasi zona borgo riono via di ardore quindi partendo da questo assunto partendo da questo concetto in cui noi crediamo fermamente perché quello che diciamo facciamo noi sicuramente se avremo modo di promettere qualcosa prometteremo quello che si può fare vi posso assicurare una cosa vi posso assicurare che noi da qui a breve continueremo il nostro tour andremo anche in altre zone anche vicino alla alla amata Bombile e non so se troverò le grandi piazze che sono che sono state promesse non credo proprio che le troverò però sono state promesse non so se chiederò ai cittadini se hanno l'acqua a casa tutto l'anno o se ce l'hanno in grande parte del periodo dell'anno mi diranno che hanno l'acqua a casa però con tutto ciò quando abbiamo dovuto mettere mani alle vostre tasche attraverso mutui per fare delle operazioni abbiamo scelto il decoro e non abbiamo scelto la necessità state tranquilli che il progetto ardore domani con me e con tutte le donne e gli uomini che si candideranno sicuramente penserà prima alle necessità e poi al decoro quindi la rete idrica sarà un punto principale che affronteremo e vi sicuro che noi quando promettiamo l'investimento sul santuario quando promettiamo che il sogno di ritornare lì a fare la novena e a fare i festeggiamenti si potrà realizzare vi faccio un piccolo esempio la nostra vicina Geraci in questo momento sta andando a intervenire per gestire e investire sul territorio 20 milioni di euro 20 milioni di euro non sono caduti dal nulla su Geraci sono caduti attraverso una programmazione attraverso politici che ci hanno messo l'anima e il cuore perché noi siamo solo dei rappresentanti del territorio i veri sindaci i veri assessori e consiglieri sarete voi perché voi ci dovrete dire quali sono i vostri bisogni e noi dovremo metterci pancia a terra per andare a risolverli vi assicuro che se sarà se servirà essere il caso a spese mia organizzerò un pullman con voi di bombile per andare dal presidente occhiuto e chiedergli di ritornare finalmente al santuario e in quella grotta ma non credo che ce ne sarà bisogno perché un'oculata gestione della politica un rapporto serio e sano fra gli enti comune provincia regione governo nazionale ci porterà ad ottenere quello che chiediamo perché chiediamo quello che è nel nostro diritto chiediamo quello che vogliono migliaia di persone cioè un'acqua pubblica una rete idrica funzionante e la valorizzazione di quello che sono le nostre risorse io ho fatto qualche appunto solitamente come avete visto parlo a braccio però non vorrei dimenticare nulla quindi per bombile iniziando da bombile poi ovviamente durante queste settimane parleremo del nostro programma che vi ripeto è in fase di ultima azione solo perché lo stiamo completando con i vostri consigli con le vostre segnalazioni per bombile sicuramente io personalmente ma tutta la squadra e con le vostre diciamo idee metteremo tre punti tre obiettivi che sono i cardini santuari ripopolamento del territorio perché ripopolare il territorio vuol dire innescare un'economia innescare di nuovo vita innescare di nuovo un'operazione che porti di nuovo questo borgo a essere come quello di se lì superiore dove un imprenditore qualche anno fa andò in visita per caso e dopo pochi mesi con un progetto di albergo diffuso riuscì ad aprire 23 bed and back fast un vecchio frantoio un ristorante un bar cioè noi dobbiamo io porterò questo imprenditore qua che è un mio amico personale e lo farò sedere qui accanto a voi a capire come poter fare anche qui questo che si può fare dovunque però qua da noi non si fanno le cose non sempre perché non si riesce a far perché tante volte non si ha l'interesse perché magari alla marina votiamo in tanti qua votate in pochi questo non so se vinceremo le elezioni ovviamente nessuno lo potrà sapere l'urna deciderà in quei due giorni 8 e 9 giugno ma sicuramente noi rispetteremo tutti allo stesso modo quindi santuari ripopolamento del territorio attraverso quest'operazione albergo diffuso e la quotidianità cosa vuol dire la quotidianità la pulizia delle strade una limonazione decorosa una rete idrica decorosa un cimitero che sia rispettoso per i defunti e per chi va a commemorare i propri defunti queste sono cose che sono l'abc in un paese civile nel 2024 e quindi questi sono i nostri diciamo capisaldi poi ovviamente io ho già nominato caterina ma tutti gli amici della lista che probabilmente hanno amici attraverso loro potrete darci i consigli potrete darci le segnalazioni noi siamo qui per ascoltare se ci sono piccoli interventi da fare noi l'abbiamo dimostrato non è vero che la politica sempre per forza deve essere l'unico punto di riferimento in questa stagione commissariale che ovviamente c'è stata per i motivi che tutti sapete c'è qualche giorno fa quando abbiamo fatto le segnalazioni c'è qualche buca che andava tappata la pulizia c'è la casa comunale non è una casa diciamo che è strana ai cittadini è solo il megafono delle nostre istanze dobbiamo abito abbiamo solo avvicinare la politica ai cittadini come l'avvicinerò io insieme a tutte le persone che mi hanno dato fiducia e mi hanno detto investiamo su questo progetto del domani investiamo tutti te come avvicineremo l'avvicineremo in questi modi mettendoci la faccia incontrandoli sentendo le vostre istanze sentendo le istanze di chiunque tra l'altro perché noi la nostra campagna elettorale la faremo in punta di piedi come la stiamo facendo con educazione non pretendiamo nulla non leggo più perché preferisco continuare a dire quello che mi esce dal cuore alcuni mi dicono ci dispiace se non possiamo venire ad incontri pubblici se non possiamo mettere like sui tuoi post perché non vorrei che poi qualcuno si arrabbiasse noi non chiediamo la coreografia noi chiediamo a tutti quanti diciamo che se meriteremo il vostro consenso di darcelo nel silenzio nella vostra riservatezza senza andare a essere invasivi a entrare nelle vostre case a disturbare non entreremo se saremo invitati ovviamente come ho già detto ma entreremo attraverso questi messaggi che manderemo ricordatevi ognuno di voi memorizzate queste cose che diciamo perché noi quello che diciamo ci impegneremo al massimo a farlo questo dicevo un primo incontro noi in questi giorni lavoreremo per completare la lista e per completare il programma e poi continueremo i nostri incontri sicuramente vi ripeto da potito da san nicola da san nicola dal nostro centro storico nelle varie zone della marine però sempre con questo light mode innanzitutto col progetto del rilancio turistico perché non è che queste cose le devono fare solo i privati il comune deve dare come dice come recita anche la legge l'indirizzo politico e deve controllare controllare che gli uffici facciano porti in avanti quello che saranno le nostre indicazioni per questo anche a chi parlava di qualità e competenze rispetto alla nostra azione politica vi posso assicurare che le nostre competenze sono competenze importanti perché le nostre competenze sono il cuore la passione che ci metteremo non dobbiamo essere medici o commercialisti o ingegneri per fare i sindaci gli assessori consiglieri noi dobbiamo essere solo donne uomini di buona volontà che si dedicano che dedicano una parte della loro vita la tolgono la famiglia al lavoro per stare con per mettersi a disposizione della cittadinanza ovviamente le doti che devono avere sono le doti di poter sapere dialogare di avere la diplomazia di rivolgersi allo stesso modo col cittadino e con gli enti sovracomunali quindi la regione perché non possiamo sempre pensare di andare ad attingere a mutui o a risorse con le casse comunali per risolvere i problemi non si può fare questo e tantomeno mi dispiace per chi l'ha fatto in precedenza ma lo rimarcherò parecchie volte in queste settimane e tantomeno se dobbiamo arrivare a fare un mutuo cioè io a casa mia se faccio un mutuo non lo faccio per comprarmi una belliccia faccio un mutuo per comprare da mangiare i miei figli e lo stesso è l'esempio se io faccio un mutuo con il comune non lo faccio per aggiustare un marciapiede seminuovo lo faccio per aggiustare una rete idrica che risale ormai a 50 60 anni in alcuni tratti e che ha un costo dati alla mano con le manutenzioni straordinarie e non negli ultimi dieci anni avremmo potuto farla praticamente solo con gli interventi che abbiamo dovuto fare di manutenzione straordinaria quindi da noi sentirete solo la verità e sentirete solo cose fattibili e cose e esigenze dei cittadini perché noi non siamo non saremo non andremo ad amministrare per per le nostre diciamo per toglierci qualche sfizio qualche vizio no quelle cose le facciamo le faremo nel mondo privato noi andremo ad amministrare per poter dare risposte ai cittadini questo è un primo incontro che ci tenevo ringrazio tutti i cittadini che sono presenti anche il numero importante sono contento ringrazio chi ci sta ascoltando su facebook tra qualche ora questa nostra diretta diventerà un video che facciamo che faremo girare vi prego di girarlo a tutti non importa l'indirizzo del voto che hanno ma tutti devono conoscere il nostro pensiero perché secondo me il momento del voto è un momento che non può non può risolversi a un mero favore personale che si può fare a un amico piuttosto che a un compare o piuttosto che a una persona che ti ha favorito voi col vostro voto e vedete che un singolo voto è fondamentale andrete a dare un indirizzo ai prossimi cinque anni di amministrazione comunale è importantissimo questa cosa prendetevi 50 giorni per riflettere prendetevi fino all'ultimo giorno ascoltate tutti chiedete mi auguro che gli altri faranno come faccio io che ci metteranno la faccia vi incontreranno e quindi riflettete bene perché è fondamentale secondo me in questa fase in questa fase tra l'altro storica della regione calabria e del nostro territorio andare a scegliere gli amministratori con uguale tezza noi ci mettiamo sicuramente il cuore la voglia l'emozione mi state vedendo anche la mia voce che spesso invece è molto decisa sono abituato a stare di fronte alle telecamere però ovviamente essere ad ardore e lavorare proporsi per questo incarico mi dà una grande emozione anche perché io sento molto l'onere di questo impegno non solo l'onore che ovviamente c'è molto l'onere perché io non penso che devo vincere per forza non me l'ha ordinato il medico di fare il sindaco assolutamente non ho costruito non sto costruendo una squadra una squadra per vincere sto costruendo una squadra per amministrare non mi metterò accanto persone con le quali non ho rapporti con le quali magari politicamente siamo stati distanti per decine di anni solo per vincere perché poi non potrei amministrare io faccio una squadra omogenea di persone per bene di persone che la pensiamo bene o male allo stesso modo e persone che vi radovano rappresentare quindi oggi siamo a bombile fra qualche giorno continueremo con i nostri incontri grazie ancora a tutti io sono qua a disposizione per ascoltare se volete possiamo continuare e magari ascolto qualcuno di voi se ci